Una cosa che non sai sulle illusioni percettive. Un altro esperimento pazzesco di yoga demenziale puoi vincere delle scommesse. Allora, se tu, a caso che questo non sia il mio braccio ma il braccio di un'altra persona, tu le chiedi di dirti quando il tuo dito arriva qua, nella piegatura del braccio, e le chiedi di stare con gli occhi chiusi e affidarsi soltanto alle sensazioni. E poi cosa fai? Inizi a muovere lentamente in questa maniera qua, vengo vicino così mi vedi meglio, in questa maniera qua, piano, 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 scendi, 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 piano, 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 piano. Allora, cosa succede? Che questo porta a un'illusione percettiva e quando grosso modo il tuo dito sarà arrivato qua, la persona lo sentirà qua. è un gioco strepitoso che ti fa capire però quanto i nostri sensi, la nostra capacità di sentire le sensazioni sia facile da ingannare. Buono yoga demenziale a tutti!